Amici di YouTube ben trovati da Marco Liguori in questi giorni sta tenendo banco un'ipotesi di un mega terremoto che potrebbe colpire la zona ad altissimo rischio. Parliamo del Giappone che nei giorni scorsi è stato colpito da due scosse molto potenti di magnitudo 6,9, 7,1 della Scala Ritter, numerosi danni e otto feriti, nessun morto, ma tanta paura e, come detto, gli esperti lanciano l'allarme di un mega terremoto. Intanto nella terra del sollevante è scattata la corsa agli approvvigionamenti, la corsa alle scorte e i supermercati sono stati presi d'assalto e il secondo me di Marco Liguori vi terrà aggiornati su ciò che sta accadendo e speriamo che non accada nient'altro in Giappone. Intanto la paura e la preoccupazione sono ai massimi livelli, amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al secondo me di Marco Liguori per essere sempre aggiornati sui terremoti in Italia e in tutto il mondo. Seguitemi sul primo canale di Marco Liguori e sul nuovo canale Marco Liguori Psicologia e crescita personale. Ciao a tutti!